Finalmente il Movimento 50 Stelle si presenta per le regionali in Emilia Romagna, anche in Calabria per il 26 gennaio del 2020 e correremo da soli, per cui siamo anche noi adesso al centro dell'attenzione insieme a PD e Lega e altre liste che si presenteranno. Secondo me finalmente si è capito dalla brutta esperienza dell'Umbria che è meglio consultare i diretti interessati, quindi i calabresi e gli emiliano-romagnoli e credo che i numeri testimonino questo. Abbiamo tempo fino al 27 di dicembre per preparare la lista, credo che con Rousseau si possa tranquillamente scegliere quei tre candidati che in base alla percentuale di popolazione Ferrara potrà piazzare nell'assemblea legislativa. Ci sono 50 consiglieri, 40 eletti con il proporzionale, 9 con maggioritario, poi c'è il secondo arrivato, per arrivare a questa cinquantina, più il presidente, e Ferrara dovrebbe piazzarne tre. Oddio, dalle percentuali che ci danno non credo che riusciremo a piazzarli tutti e tre, però magari ci proviamo in un paio di mesi, abbiamo parecchio possibilità di rimboccarci le maniche e fare qualcosa di buono per la regione. Per i candidati abbiamo il candidato presidente, secondo me la cosa più rapida sarebbe quella di candidare a qualcuno dei cinque, anzi quattro consiglieri uscenti come Bertani, La Sensoli, però naturalmente tutte le decisioni sono ancora un attimo in firi da questo punto di vista. Per quanto riguarda i candidati e come consiglieri regionali abbiamo parecchia gente che ha voglia di metterci la faccia dopo anni di attivismo, per cui tutte le porte sono aperte, ma credo che sarà Rousseau di rimente per queste decisioni, anche perché credo sia la forma più rapida.